La vera questione credo non sia presenza o remoto, anche se ovviamente tutti ci auguriamo di tornare il più presto possibile in presenza, ma la vera questione è una didattica individuale o una didattica relazionale. Molti studenti non erano neanche a conoscenza, segno tangibile di una mancanza di relazione e di confronto, vera questione centrale nel dibattito tra didattica a distanza e didattica in presenza. Nel giorno in cui era previsto inizialmente il rientro in aula per le scuole superiori è andato in scena in tutta Italia lo sciopero bianco degli studenti che così facendo hanno provato a manifestare il loro disagio e la voglia di tornare a sedere tra i banchi di scuola. Se da una parte il ritorno in classe è reso difficile da una situazione sanitaria ancora critica e a rendere complicato il tutto è sicuramente il nodo degli spostamenti e dei trasporti, dall'altra arriva da più parti il monito sulle conseguenze di questo distacco prolungato dalla scuola per molte generazioni di studenti. Al centro però non bisogna dimenticarlo, in ogni caso deve essere messo il bene dei ragazzi. Tornare in aula certo il più presto possibile ma tornare in aula per entrare in relazione, non per stare rigidamente seduti a un banco distanti gli uni dagli altri con dei plexiglass e così via. Se è così non so neanche se ne valga tanto la pena dati anche i rischi che sono collegati al covid. Qui forse quando si tornerà in aula bisognerà semmai riflettere su metodologie che sono utilizzate in altri ambiti come per esempio anche nella scuola dell'infanzia, la metodologia delle bolle. Ancora non si conoscono le decisioni che verranno prese per la scuola nell'immediato futuro. Il rischio però che si intravede per i giovani nell'aver vissuto questo anno particolare è quello di un ripiegamento su se stessi, quello che Papa Francesco ha ribatezzato una divanite spirituale e non sarà sicuramente il ritorno in classe a cancellare gli effetti di questo. Bisogna però dire di nuovo con speranza che i giovani sono più resilienti degli adulti, hanno più energie di noi, chiaro che dovranno essere aiutati anche dagli adulti ma nella reciprocità. Al netto di qualche situazione in cui dovremmo essere di supporto ai nostri giovani per uscire appunto dalla divanita spirituale. Io credo che loro respireranno molto in fretta il senso della novità e del cambiamento e andranno avanti.